buongiorno a tutti il sentiero di oggi è stata la ricerca delle marmotte in quel sentiero là oggi abbiamo visto una marmotta e tante ossa se volete scoprire altri sentieri del trentino seguitici su altri video questa è la cascata a 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